Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio, in studio da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne. Sono 1.549 nuovi casi positivi al Covid registrati ieri in Abruzzo, il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 2.912, i dimessi ugualiti sono 1.024 in più, gli attualmente positivi nella nostra regione sono 509 in più, 456 pazienti, 14 in meno, sono ricoverati in ospedale in area medica, 20, 3 in meno, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 90.601, 526 in più, sono in isolamento romiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.904 tamponi molecolari e 10.855 test antigenici con tasso di positività al 9,82%. Sono oltre 183.000, secondo i dati ufficiali, gli abruzzesi al di sopra dei 5 anni di età senza neppure una dose di vaccino contro il Covid. Il dato non tiene conto degli esempi e quindi i numeri reali dovrebbero essere leggermente più bassi. Del totale circa 64.000 persone sono dai 50 anni in su, fascia per la quale dallo scorso 8 gennaio è scattato l'obbligo vaccinale. Di questi oltre 35.000 sono in età lavorativa. Dal 15 febbraio hanno quindi bisogno del Green Pass rafforzato per lavorare. Nel complesso rallentano le prime dosi e nell'ultima settimana sono state 1.909. Preghiamo perché la visita del Papa all'Aquila possa essere confermata. Stiamo lavorando da tempo per poter vivere insieme alla comunità aquilana assegnata da grandi sofferenze e quest'immensa gioia. Così il Cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita del capoluogo regionale, nell'ambito dell'incontro con i giornalisti ebruzzesi sul tema comunicazione sociale, fare il bene e farlo sapere che si è svolta all'Aquila. Al termine dell'evento il prelato è tornato a parlare con ottimismo e fiducia della possibilità che Papa Francesco possa visitare la città dell'Aquila in occasione della prossima perdonanza celestiniana in programma ad agosto. L'istanza è stata recapitata in Santa Sede da tempo, ora si cominciano a nutrire concrete speranze. In tal senso l'arcivescovo Petrocchi ha dichiarato che nei giorni scorsi è stata presentata un'ipotesi di programma agli organi vaticani competenti che nelle prossime settimane contano di fare un sopralluogo in città. Inoltre il cardinale ha detto che si augura che una delle tappe della visita del pontefice, qualora venisse confermata, sia la cattedrale di San Massimo. E arriviamo a Pescara dove ci sono novità per i pescatori e per quanto riguarda la loro presenza nei locali del porto di Pescara. A illustrarle ai nostri microfoni il sindaco Carlo Masci. Noi abbiamo avuto un'interlocuzione diretta, forte, con l'autorità portuale dove noi abbiamo il nostro rappresentante che è Riccardo Padovano per fare in modo che il costo del canone demaniale per le rimesse dei pescatori non fosse più caricato ai singoli box ma venisse caricato ad un solo soggetto per tutti quanti i box. Questo vuol dire un risparmio notevolissimo per i pescatori perché mentre fino a oggi paghavano 2500 euro a box poi si pagherà 2500 euro nella totalità per tutti quanti i box. E il consorzio che gestirà appunto questa presenza dei pescatori poi concederà le postazioni in subaffitto con però costi molto molto più contenuti. Ma nell'occasione di questo annuncio abbiamo parlato con il comandante della Capitaneria di Porto di Pescara, Salvatore Minervino, soffermandoci con lui a proposito del dragaggio del porto di Pescara. La situazione non è una situazione agevole come i pescatori più volte hanno rappresentato a noi istituzioni, compreso il comune. Su questa situazione ne stiamo lavorando ormai da anni si può dire. Ci sono la situazione paradossale che i fondi ci sono, le strutture disposte a spenderli ci sono, il problema è la qualità dei sedimenti che abbiamo accertato essere non ottimale. Quindi c'è il problema che una parte dei dragaggi deve essere conferita altrove e questa procedura ci ostacola molto e ci fa perdere tempo, ma riusciremo però a risolverlo. C'è bisogno solo di un altro po' di tempo. La prossima fase operativa è il completamento del molo nord, il molo guardiano nord attraverso il quale verrà deviato il corso del porto canale. Questo è uno stato di avanzamento di una programmazione di lavori che risolverà nel futuro, tra qualche anno, il problema atapico del dragaggio. Inverno invece è mai entrato nel vivo nell'Appennino abruzzese con deficit pluviometrico e nivometrico praticamente a tutte le quote, quindi carenza di piogge e neve. Una stagione caratterizzata dal dominio a fase alterne del anticiclone africano con solo rapide incursioni artiche che non hanno mai apportato grandi accumuli di neve. Fatta eccezione per le aree dei grandi comprensori sciistici come la Remogna, Monte Magnolia e Campo Imperatore, il resto delle montagne abruzzesi ha avuto un innevamento che ricorda molto quello di fine aprile-inizio maggio. Anche le temperature quest'anno, tranne rari casi da inversione termica, non hanno registrato dati degni di nota se non in termini di quasi costante sopra la media. Lo rileva l'ANSA riportando le preoccupazioni degli operatori del settore. Torniamo a Pescara ora dove arriva il primo parcheggio pubblico custodito destinato alla lunga sosta. Sarà istituito sotto uno dei tunnel della stazione centrale nell'area che era stata destinata a mercatino etnico. Un servizio che tiene conto di chi viaggia, dice l'assessore alla viabilità Luigi Albolemascia, ma anche di chi arriva in città per lavoro. È una delle novità contenute nella delibera approvata dalla Giunta Comunale e che prevede una serie di innovazioni nell'organizzazione dei parcheggi in centro e nell'immediata periferia. È un riassetto complessivo delle aree di sosta cittadine che si rende opportuno, secondo l'amministrazione comunale, in seguito ai tanti cambiamenti nella mobilità che sono intervenuti negli ultimi anni, con la spinta verso sistemi alternativi e sostenibili e soprattutto con la crescita dei poli che offrono servizi al cittadino. Per quanto riguarda il parcheggio nel sottopasso ferroviario dell'ex mercatino etnico, sarà custodito 24 ore al giorno. La tariffa sarà di 10 euro per mezza giornata, di 18 per l'intera giornata, 50 euro per una settimana e 150 per un mese. Saranno allineate anche le tariffe per le aree di sosta in via Bologna e via Ostuni da lunedì al sabato o dalle 8 alle 20, previsto il pagamento di 50 centesimi per i primi 30 minuti, un euro dal 31 al 60 minuto, due euro l'ora per ogni ora successiva. Un abbonamento da 20 euro al mese consentirà la sosta negli stali di tutte e due le strade. Stesso regime per via Paolini, con l'aggiunta di un abbonamento di 15 euro per i residenti autorizzati. Per quanto riguarda piazza Antonio Mancini, sempre dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, tariffa fissa da un euro, l'ora con possibilità di abbonamento a 20 euro al mese. In via Cetteo Ciglia, in via Delfino Spiga, è previsto un pagamento di 50 centesimi per i primi 30 minuti, un euro dal 31 al 60 e due euro l'ora per le ore successive, con possibilità di abbonamento da 15 euro l'ora per i residenti. Si pagherà da lunedì al sabato e con l'orario dalle 8 alle 20, rivisti i parcheggi più in generale nelle varie aree della città. E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno, poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti in mattinata, mentre dalla tarda mattinata nella seconda metà della giornata è previsto un graduale aumento della nuvolosità, a iniziare dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone entro il tardo pomeriggio. Si tratterà di nubi medio-alte stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo, ma che determineranno annuvolamenti diffusi anche nel corso della giornata di domani, quando tuttavia torneranno a manifestarsi schiarite nel corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone pede-collinari che si affacciano sul versante adriatico e localmente lungo le aree costiere, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. Venti deboli dai quadranti occidentali, con possibili rinforzi sulle zone collinarie e montuose. domani tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando soprattutto lungo la costa. Mare quasi calmo o poco mosso, con moto ondoso in aumento nella giornata di domani. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto. Grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica.